Non voglio rinunciare a me stessa. Non voglio rinunciare ai miei sogni. Voglio che la mia vita conti qualcosa. Sono sicura che te la caverai. So chi sei. Voglio che la mia vita conti qualcosa. Solo due anni di liceo. Me ne sono andata per intraprendere una carriera nelle vendite. Casco, vendevi coltelli da carne porta a porta? Sì, ma c'erano anche tanti altri tipi di coltelli. Mi dia una possibilità, la prego. Evitami una figuraccia. Salve. Salve. Piacere di conoscerla. Va bene. Il piacere è mio. Far prescrivere a un medico il tuo farmaco. Con le provvigioni voli in paradiso. Sai quanto porta una ricetta a dose intera? Quanto? 40.000. All'anno? Al mese. Del resto, non avevo fatto niente di illegale. Un biglietto della lotteria con poche probabilità a 3.000 rifiuti. Bisogna avere la grinta e le palle per trovarlo e grattarlo. Non c'è niente di più stimolante della disperazione assoluta. Non guadagnerai 100k quest'anno. Sarà più vicino ai 600. Adorare come se foste sempre con le spalle a me. Possiedi il territorio. Possiedi il territorio. Possiedi il territorio. Se non si cresce, si muore. Dov'è la crescita? Le vendite sono ferme a 170 milioni a trimestre perché... Daica! Usa la tua crisi come fuoco. Ti stupirai di ciò che sei capace di fare. Non è colpa tua. Non sei una brutta persona. Non voglio rinunciare a me stessa. Non voglio rinunciare ai miei sogni. Voglio che la mia vita conti qualcosa. Voglio che la mia vita conti qualcosa. Sono io o stai impazzendo? Ehi! Via quelle scarpe! Via quelle scarpe! Ehi! Grazie a tutti.